Buongiorno Ia Mizzic non può arrivare sul pallone che esce direttamente Jovinko Paulsen Jovinko Dentro il pallone per Ia Quinta Ia Quinta sul destro Vincenzo Ia Quinta 1-0 Menes non riesce ad arrivare poi ancora Menes l'area di rigore destra di Menes Donetto Vucinic nel mucchio passa il pallone e c'è il paneggio della Roma con Simone Loria che impazzisce letteralmente Grieghera perché il pallone è deviato Ia Quinta Vincenzo Ia Quinta 2-1 super partita di Ia Quinta Possibilità di contropiede per la Juventus che si distende in velocità Del Piero vince una palla 3-2 4-2 per la Juve Del Piero ancora Ia Quinta Ia Quinta entra in area di rigore sempre Ia Quinta rientra sul destro la palla resta lì e c'è il salvataggio clamoroso sulla linea strepitoso salvataggio di Riese praticamente un gol su tiro a botta sicura di Del Piero Caccio d'angolo per la Juventus nel mucchio 3-1 per la Juve Olof Belberg 3-1 Spuca e la mette benissimo Ancora un traversone trovato lo stacco Marchionni poi Pove Nacchiet 4-1 Battista destro deviato Buffon ci mette la mano e mette in calcio d'angolo D'Alessandro prova ad andare via D'Alessandro ancora Buffon dice di no D'Alessandro per il gol all'esordio a 17 anni Del Piero ancora si libera Del Piero due dribbling sinistro ribattuto da Panucci l'arbitro dice che può bastare hanno tutti sotto la doccia Juventus batte Roma 4-1